Chiede di nuovo aiuto ai privati la sanità retina alle prese con un sovraffollamento simile, se non addirittura superiore a quello della primavera scorsa, all'ospedale San Donato e lo fa soprattutto per liberare posti in sala operatoria. Durante la prima ondata erano stati 204 gli interventi realizzati alla Centro Chirurgico Toscano, una sponda importante che aveva consentito allora di allentare la morsa e di garantire tutte le prestazioni non rinviabili. Nei giorni scorsi il direttore generale della ASL, Antonio Durzo, non aveva del tutto escluso il nuovo tandem con la sanità privata. Aveva specificato di vederla come una soluzione estrema, ma al tempo stesso confermando che le eventuali scelte sarebbero state prese in tempi brevi. La ASL ha elaborato un piano per evitare di riportare fuori i tasselli della sanità che resta comunque pubblica, per questo il coinvolgimento, almeno in questa fase, dei privati sarà un po' inferiore rispetto alla primavera. Allora gli interventi in esterna erano stati di chirurgia generale, urologia, otorino, ginecologia, senologia, chirurgia vascolare, gastroenterologia. La ASL sta allimando proprio in questi minuti il nuovo piano di intervento.